Stagione non è finita perché mancano ancora tante partite, giovedì abbiamo il ritorno di Coppa, come era ammaricato il mister lo siamo anche noi perché era una gara importante dove volevamo ottenere i tre punti perché avevamo ancora la speranza di riuscire a rimanere attaccati all'Europa, adesso le partite sono ancora tante però questa è una gara fondamentale. Purtroppo è andata così, adesso giovedì dobbiamo cercare di tirare fuori tutto, tutto l'orgoglio, il massimo che abbiamo dentro, è una partita difficile, non sarà facile però non è ancora chiusa la qualificazione per cui dobbiamo provarci fino alla fine. Invece Ranotti ha parlato di terzo posto, tu ci credi ancora? Nel calcio le cose cambiano da un momento all'altro, ci sono ancora tante partite però le gare come quella di stasera non possiamo buttarle via così, per cui questo è un grande rammarico e se poi non riesci a ottenere queste occasioni qua, di portare a casa i tre punti poi diventa difficile. Ma non lo so, queste sono le scelte che aspettano poi al mister, insomma valuterà lui in questi giorni, io cerco sempre di dare il massimo, di lavorare al meglio, adesso devo recuperare bene questi giorni, poi sono a disposizione sua e poi lui farà le scelte come meglio chiede.